ebbene sì ce l'abbiamo fatta ragazzi a portare a casa un punticino con un inter che questa sera comunque si è data da fare ha tirato 25 volte in porta e sicuramente per loro non è un punticino guadagnato ma sono due punti persi come per noi la volta scorsa se vi ricordate bene contro il monza eravamo in live su twitch con il canale samtube abbiamo appena staccato la live e faccio subito il video per youtube perché anche voi avete il diritto di sentire la mia opinione sulla partita di questa sera partita che secondo me la samp ha giocato al meglio delle sue potenziali il primo tempo ha cercato di tenere palla possibile è stata anche pericolosa più di una volta e poi diciamo che il secondo tempo l'inter cercato in qualche maniera di arrivare a questi tre punti alla vittoria al gol ci ha provato più di una volta audero ci ha messo più di una volta la pezza però non possiamo dire di aver visto la sandoria demotivata demoralizzata dopo la partita di monza anzi tutt'altro siamo ci siamo ci siamo dovuti ricredere perché inizio settimana chiacchierando fra di noi avevamo questo presentimento che arrivassero ad oggi molto 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 demotivati e poco informe invece abbiamo visto un una buona samp potevamo anche infierire verso la fine ci sarebbe anche stato con cambiadini sarebbe stato bello ma non è andata così un punto che mettiamo mettiamo in classifica classifica che comunque cambia perché il verona va a 17 punti lo spezia 19 noi a 11 rimane sempre un bel divario tra noi e la salvezza però come dico sempre il doriano non molla io sono ottimista ancora di più dopo aver visto la partita di questa sera che vedete il canale mettete il like sotto il video e domani sera sui twitch dalle 21 venite a seguirci sul canale samtube canale sulla piattaforma viola mi raccomando a domani sera ciao ragazzi